la nuova edizione di temptation island 2024 è tornata a far parlare di sé con la prima puntata andata in onda il 10 settembre filippo bisciglia ha introdotto le sette coppie pronte a mettere alla prova i propri sentimenti in un contesto di tentazioni e sfide emotive tra le coppie in gioco troviamo alfonso e federica di andra e valerio e alfred e anna ognuna con dinamiche e tensioni uniche che promettono colpi di scena la puntata si è subito accesa con il racconto di alfred e anna insieme da quasi due anni ma in crisi dopo che anna ha scoperto un tradimento alfred ha ammesso di essere diviso tra il desiderio di restare con anna e la voglia di divertirsi con altre ragazze la situazione è degenerata quando alfred si è avvicinato alla tentatrice sofia arrivando quasi a baciarla e accettando un giro in barca con tanto di massaggio anna osservando tutto dal villaggio è scoppiata in lacrime dichiarando sono qui per farti vedere che me da sei con lacrime e tensioni già al massimo temptation island 2024 si è aperto con un inizio scoppiettante promettendo emozioni forti e conflitti intensi nelle prossime puntate le coppie dovranno affrontare decisioni cruciali per il loro futuro e i fan sono già pronti a seguire ogni mossa con il fiato sospeso